Musica Questa settimana l'assise del Lanci a Torino. Ci sarà anche il Presidente Mattarella che poi visiterà l'ossario di Coazza. C'è anche un legame suo personale con questo ricordo di quello che è stata la Resistenza. Sì, all'Assemblea annuale ci saranno nove ministri, il Presidente del Consiglio e il Presidente della Repubblica. Il Presidente della Repubblica poi ha accolto l'invito che gli abbiamo formulato a essere sabato al Forno di Coazze per celebrare il settantesimo anniversario della fondazione dell'ossario partigiano di Forno che raccoglie le salme di 98 degli oltre 300 caduti partigiani della Val Sangoni. E' credo un momento molto importante perché sottolinea ancora una volta il valore che la Resistenza ha avuto nella fondazione della Repubblica, nell'acquisizione della Costituzione e nella Costituzione dell'Italia democratica. Collocandosi a fine anno in qualche modo questa cerimonia rappresenta la conclusione autorevolissima per la presenza del Presidente della Repubblica delle celebrazioni del settantesimo anniversario della Liberazione ed è, credo, un riconoscimento alla Val Sangoni per quanto la Val Sangoni ha dato per la libertà del Paese e naturalmente, personalmente, è una cosa che mi è molto cara per la funzione e il ruolo che mio padre ha avuto nella Resistenza in quelle vallate. Grazie. Grazie. Grazie.